in questo numero di high tech e innovazione magazine doc marshall un software semplifica la vita delle aziende jansen una piattaforma h24 a disposizione di pazienti e caregiver digitale sisco accelera su formazione e inclusione bollette al via una partnership tra intesa san paolo e switcho un saluto anche questa settimana da the digital club per ita press e da marco lombardo come sapete ormai le aziende devono essere al passo della tecnologia e per farlo devono utilizzare dei software che gli aiuti in questa trasformazione verso il futuro ce ne sono di diversi in circolazione ma un aiuto importante arriva da un'azienda made in italy e che sta sviluppando e aggiornando sempre di più un software che si chiama docs marshall e che permette di fare appunto questa trasformazione digitale senza avere delle grandissime competenze e come grazie appunto a un software chiamato no code lo code ovvero che sia possibile da aggiornare e comunque da utilizzare anche da utenti che non sono bravi nella programmazione non servono codici insomma o comunque il software arriva con pezzetti di codice che possono essere adattati a sistemi già integrati è praticamente l'uovo di colombo e d'altronde una ricerca di garner dice che entro il 2024 il 65 per cento di questi software dovranno essere appunto con questa tecnologia no code low code e che addirittura entro il 2030 il giro d'affari di questi programmi sarà di circa 65 milioni di dollari e quindi ecco perché quale eva l'azienda che ha inventato questo software a puenaglio del garta quindi in vicino a brescia ha utilizzato appunto questa tecnologia e i risultati si stanno vedendo perché già molte aziende la stanno utilizzando un esempio su tutti il policlinico di monza che da quando a docs martian nel suo sistema integrato è riuscita ad accelerare la consegna delle cartelle cliniche che prima erano di diversi mesi ed ora solo di qualche giorno è un esempio perché un software del genere si adatta a qualsiasi attività e gestisce dati come appunto tutta l'analytics aziendale ma anche dati come quelli della cyber security e addirittura lo scheduling cioè l'aggiornamento di tutti gli appuntamenti dei dipendenti che vengono ottimizzati grazie all'intelligenza artificiale insomma una soluzione come detto nata in italia è che probabilmente si espanderà nel mondo e questo aiuterà le nostre aziende a diventare sempre più tecnologiche e soprattutto ad avere un business al passo dei tempi e anche questa settimana da the digital club per ital press e da marco lombando un saluto un esperto a disposizione sette giorni su sette 24 ore su 24 in grado di rispondere alle domande e ai dubbi di pazienti e caregiver e jansen with me piattaforma dell'azienda farmaceutica dove sono presenti informazioni sulle diverse patologie a parlarne in un'intervista di barbara millucci per l'agenzia ital press e federica mazzotti business transformation director di jansen italia noi ci concentriamo frequentemente su due piattaforme che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni una dedicata diciamo agli operatori del mondo sanitario che si chiama jansen medical cloud dove si trovano informazioni sui nostri prodotti e sull'area terapeutica dove i clinici possono trovare per esempio articoli scientifici pubblicazioni informazioni diciamo che sono rilevanti per la loro attività quotidiana e poi abbiamo invece un portale dedicato ai pazienti caregiver che si chiama jansen with me dove sono presenti in questo caso informazioni di patologia prevalentemente perché ovviamente i farmaci che sono farmaci da prescrizione non possono avere pubblicità al grande pubblico per cui si parla di patologia e fungono proprio da come dire incalanatori di informazione ma anche un modo per i pazienti per i caregiver per avere dei riferimenti per avere dei contatti ci sono tutta una serie di servizi anche qua che sono messi a disposizione da l'esperto risponde quindi un clinico che è disponibile sette giorni su sette h24 per rispondere a domandi e dubbi dei dei pazienti o anche solo per sapere magari qual è il centro di riferimento per una certa patologia. Secondo lei a che punto è la ricerca anche oncologica? Beh la ricerca è sicuramente ha fatto grandi progressi insomma ci sono patologie dove solo qualche anno fa purtroppo il tasso di mortalità era molto alto ormai ci sono patologie in ambito oncologico e matologico che vengono definite croniche perché i pazienti alla fine muoiono di altro e non invece del tumore piuttosto che l'infoma e quant'altro quindi la ricerca è avanzata moltissimo da questo punto di vista e ovviamente le aziende farmaceutiche giocano un ruolo molto importante. Più formazione e inclusione per garantire la crescita digitale dell'Italia è l'obiettivo di Cisco e a parlarne in un'intervista all'agenzia Italpress e l'amministratore delegato Gian Matteo Manghi. Per noi la diversità è un grande valore e stiamo ormai superando il concetto di inclusione verso la valorizzazione cerchiamo di valorizzare qualsiasi tipo di diversità che non fa altro che arricchire un gruppo sociale un'organizzazione aziendale non solo ma ad avere un impatto positivo sui risultati d'impresa. Dove vediamo questa diversità? Noi per le donne abbiamo una comunità all'interno che si chiama Women of Cisco che è molto attiva nel cercare di attrarre giovani o esterni verso Cisco per avere sempre più una presenza famminile che nel mondo dell'information technology è più limitata di quanto vorremmo e che invece può portare grande ricchezza e continuiamo anche a lavorare nelle scuole anche superiori ma anche medie portando dei nostri ambasciatori che raccontano cosa significa vivere nel mondo digitale e come può cambiare e migliorare il mondo. Come gruppo avete dichiarato di voler formare 25 milioni di persone al mondo in 10 anni. Come si sviluppa questa intenzione in Italia particolarmente? Assolutamente e noi pensiamo che le competenze digitali e la formazione siano uno degli strumenti più potenti di inclusione sociale cioè di garanzia di futuro o perlomeno maggiori possibilità di costruire un futuro per tutti non lasciando nessun escluso e anche un contributo all'economia che si sta sempre più trasformando in senso digitale. Abbiamo 350 Cisco Networking Academy in Italia, hanno formato negli ultimi 12 mesi 62 mila persone, il 96% entro sei mesi trova un'occupazione e alcuni corsi come quelli della cyber security le persone vengono tutte assunte prima di finire il corso. Non solo, al sette di queste scuole sono nelle carceri proprio per avere la maggiore inclusione possibile e vogliamo accelerare. Nei prossimi tre anni vogliamo raggiungere oltre 200 mila persone formate e continuare perciò a dare il nostro contributo alla società, all'economia ma anche a noi stessi perché questo garantisce la crescita digitale. Prende il via la partnership tra la start-up Suicio e Intesa San Paolo che consente di ampliare ancora funzionalità e servizi dell'app dell'istituto di credito, integrando il servizio che supporta le famiglie nel risparmio sulle utenze domestiche di luce e gas. È un'opportunità che diamo a tutti i nostri clienti che utilizzano l'app Intesa San Paolo mobile e collegandoci direttamente con Suicio i nostri clienti potranno caricare le loro bollette, verificare le tariffe alternative ed eventualmente delegare Suicio per cambiare l'operatore o essere più tranquilli che l'offerta corrente è proprio la più adeguata loro. La partnership rientra nel percorso di trasformazione digitale intrapreso da Intesa San Paolo che leva alzo tra l'altro il riconoscimento di Forrester Research come miglior app bancaria al mondo per funzionalità ed experience. Nella strategia di Intesa San Paolo c'è la volontà sempre di collaborare con nuove fintech, nuove idee, portare alcuni servizi molto specifici all'interno dell'app declinandoli secondo le esigenze dei nostri clienti. Intesa San Paolo consente anche di rateizzare la spesa per le utenze domestiche e ha messo in campo diversi strumenti sul fronte dei mutui immobiliari. Noi aiutiamo soprattutto il mondo giovane attraverso due opportunità. La prima è allungando le durate arrivando a coprire mutui fino ai 40 anni e la seconda è la possibilità di poter finanziare fino al 100% del valore dell'immobile.